Siamo arrivati a un vado, un vado all'offo Sì, è un po' Il motore è un po' un po' più più Ma cosa costa? Nel tre chilometri uno dei due lonti di fare un'altra parte per la A5 A23 inizia Parare adesso l'inquiettuali la stiamo l'occolta se deve andare a motor è già non si mai va con la samenti . . Ma aici in fata Uite a stare a cagli di aici Vedeti Si la domani traia a ia din fata Quisca un po' di più di un po' di più di un po' di più di più di tanto Noi, non sono chilometri, chilometri. Ah, la musica è perfetto, chilometri. La musica è perfetto, non è possibile. La musica è perfetto, non è possibile. Non è possibile. Spero così Quattro, vuoi tutti noi abbiamo chiaro di una linea 2 km Ah, ecce siamo un teradare La zona del sud del Viennese, l'offrata in 2006-2007 L'offrata in speciei del 94-2004 Dㅋㅋㅋ E fii foarte frate funoscuta zona De multe ori ziceam ca chinochii Crezi else mai repede. Sa ajunga un la altul Eicea-mi lumin делают Azi pot-mi pot-o dimineanta Ia sa vedam questa mi arata ceva frumos in spate nuovi masini che vanno a testare queste proponezze o lacrimeare io aste parte intensa un error specific che avevo in grattina avevo o tufa in grattina in grattina in grattina in grattina